Ok, benvenuti ragazzi a questo nuovo video, oggi faremo una reaction, ovviamente come vedete dal titolo del video, scusate oggi sono un po' fulminato perché mi sono alzato da pochissimo Abbiamo tanta carne al fuoco oggi perché abbiamo un nuovo trailer per Sonic 2, il film, e abbiamo anche il trailer per Sonic Frontiers Però questo video è dedicato al trailer del film di Sonic che è stato annunciato appunto stanotte ai Game Awards Quindi direi di non perdere tempo e vi taglio direttamente al punto perché sto cercando di recuperare i Game Awards e vi taglio al punto in cui c'è il trailer del film Così vediamo anche cosa è successo prima o dopo, se c'è stato qualcosina perché sapevo che c'erano Ben Schwartz e Jim Carrey Dovrebbero essere presenti però non lo so, vediamo, vediamo insieme Ah, tra l'altro so che è stato rilasciato anche il trailer in italiano quindi appena abbiamo finito quello andiamo direttamente a vedere anche il trailer in italiano Sperando che non mi tirino giù il video ovviamente, però vediamo un po', insomma, tutto questo per fornire a voi una reazione diretta Abbiamo anche gli snack qua, caramelle, non è proprio il massimo di prima mattina però Va bene, andiamo Ci siamo, ci siamo Grazie Dai, dai, dai Questo assomiglia un pochino all'inizio di Adventure Oh wow un nuovo gigante ci sta ah mi piace la dinamica gente stone Eggman ma quello è il master emerald o è un chaos emerald perché non capisco hanno migliorato tails mamma mia aprile deve avvicinarsi in fretta remake della scena del primo film emerald hill zone e knuckles mamma mia che voce driselba mamma mia mamma mia ci sta ci sta di brutto ok aspettate interrompo prima di di proseguire con i game awards per i fatti miei così almeno possiamo fare le nostre considerazioni del caso non so neanche se stessi si si mi stavo riprendendo benissimo benissimo cosa volevo dire incredibile come abbiano imparato tantissimo a fare i trailer da un anno all'altro sono veramente molto contento di vedere di vedere questo trailer perché hanno imparato davvero tanto hanno messo la musica giusta hanno parlato dei temi giusti come sono migliorati anche la computer grafica sia migliorata tanto perché ricordiamoci da dove siamo partiti e dove siamo arrivati questo potrebbe essere un film decisamente meglio molto sì molto meglio del primo potenzialmente potenzialmente potremmo vedere meno umani nel senso come meno Tom Wachowski e e sua moglie diciamo così perché adesso non mi viene il nome mi viene il nome dell'attrice quindi non mi viene il nome Maddie giusto? dovrebbe essere Maddie e e potremmo vedere un po' più di azione con Sonic, Tails, Knuckles e il dottor Eggman e sarebbe veramente una figata tra l'altro è ironico come di solito facciano vedere i trailer in cui si vede si capisce praticamente tutto della trama e questo si capisce più o meno se sai il gioco se sai com'è finito il primo film se non hai mai visto niente è abbastanza indefinito e infatti è quello che mi fa venire l'hype perché voglio capire come il dottor Eggman sia tornato indietro sia tornato sulla terra se così si può chiamare ovviamente in questo film non c'è dato sapere ancora non mi ricordo se l'abbiano detto nel primo film no mi pare di si comunque mi pare che l'abbiano detto comunque non importa il fatto è come sarà tornato il dottor Eggman dal pianeta dei funghi avrà preso Knuckles da lì oppure avrà viaggiato in un altro universo e quindi in un altro universo in un altro pianeta e quindi avrà preso il Chaos Emerald o Master Emerald se c'è Knuckles probabilmente quello smeraldo verde sarà il il Master Emerald potenzialmente Knuckles è fatto benissimo la voce di Idris Elba ci sta da dio incredibile non me lo sarei mai aspettato ma bella profonda bello minaccioso sono curioso di vedere questa dinamica perché chiaramente Knuckles ha dei poteri anche lui particolari vorrei capire se Tails li ha a parte volare però curioso è che non si fa chiamare Miles Brower che sarebbe il vero nome di Tails ma si fa chiamare direttamente Tails scelta curiosa posso anche capirlo per non stare a fare spiegoni particolari scene con lo snowboard fighissime mi riporta in mente sia Ice Cap i due Ice Cap diciamo così Adventure e Genesis e sia vabbè un pochino di City Escape ma poi comunque sembra molto tratto da Adventure alcune scene alcune scelte stilistiche ora so che è uscito il trailer in italiano adesso lo andiamo a vedere subito mi prendo un attimino di pausa che devo aprire la porta al gatto arrivo subito ok rieccoci bene allora questo dovrebbe essere su YouTube invece quindi lo andiamo subito a cercare ok lo snecchino lo prendiamo dopo vediamoci adesso il trailer ufficiale in italiano sono anche più curioso per le voci soprattutto Novara ha sempre lavoro eccezionale ma sei troppo spericolare mamma mia pensi di essere Batman Blue Justice marchio quasi registrato ma sei ancora un ragazzino credimi arriverà il momento in cui serviranno i tuoi poteri ma non scegli tu il momento il momento scegli te guarda ho i brividi un secondo questa l'è rubata opera è tornato papino ha dei baffi tutti nuovi dopo che sono scomparso ho scoperto la fonte dell'energia definitiva che bellezza erano anni che lo sognavo che bellezza spero non sia troppo tardi scusa tanto chi sei? mi chiamo Taze ok senti cosa facciamo primo passo vaga presa in giro secondo passo non ne ho idea non è stato male voglio vedere Knuckles che bello anche il tempio così ti sembro uno che ha bisogno del tuo potere è Maurizio Merluzzo? sono le buone maniere Sonic ti presento Knuckles si si dovrebbe essere non vorrei dire una cavolata ovviamente lo spero la voce è molto simile ma un po' più un po' più rocker nel senso un po' più bassa quindi non so se sia lui o sia un altro non ho questo orecchio sopraffino spero sia lui perché questo vorrebbe dire che il nostro doppiaggio è la versione superiore ragazzi non c'è niente da fare quando gli doppiatori del gioco vanno a doppiare un film la perfezione la perfezione spero che il film veramente rifletta anche che sia un un miglioramento rispetto al al film precedente che dire l'unica cosa c'è una cosa c'è un ma l'unica cosa che non mi ha fatto impazzire riguardo questo trailer è che ancora Sonic si comporta un po' troppo da bambino ci sta che è ancora giovane che è ancora però delle volte un pochino troppo quindi spero che non inseriscano altri balli stile Fortnite nel film cioè a chi è piaciuto a me non troppo quindi questa è la mia speranza ci sono le potenzialità per essere un grande film e lo spero vivamente dato che se avrà successo ovviamente ci sarà pure il terzo sapete con Nacos eccetera ci sono le potenzialità per vedere qualcosa di bello abbiamo visto anche che non avevo notato tantissimo nel primo trailer un tempio potenzialmente dovrebbe essere l'altare del Master Emerald però non si sa assomiglia molto a Jungle Joyride da Unleashed quindi sono molto curioso molto curioso di capire se è sulla terra oppure no e spero che un giorno non so se sarà in questo Sonic 2 ma magari in Sonic 3 vedremo un pochino più ambientazioni che riguardano nei giochi insomma quindi magari un Chemical Plant magari no magari un Sky Sanctuary non lo so potrebbe essere Sky Sanctuary quello lì benissimo non lo so non voglio andare più in là con la fantasia di quello che ci è stato mostrato sono molto in eye questo sì e quindi speriamo bene incrociamo le dita speriamo bene che sarà un grande film questa è stata oh sta nevicando vabbè questa è stata la mia reazione e niente spero che vi sia piaciuta e quindi ci rivediamo al cinema quindi mettetelo se vi è piaciuto un dislike se non vi è piaciuto commentate per i feedback condividete per far crescere il canale iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati con tutti i miei video ovviamente iscrivetevi anche al mio canale Twitch se non lo sapete un canale Twitch link in descrizione lì faccio un po' di tutto vario un pochino di più per il resto io vi rimando qui alla reaction del trader di Sonic Frontiers che non ho ancora visto quindi adesso vado avanti con il Game Awards e poi registro anzi potrei farlo direttamente vado su YouTube e registro direttamente la reazione di Sonic Frontiers che forse è anche meglio e poi proseguo per la mia roba insomma grazie mille per essere stati con me e noi ci rivediamo a un prossimo video e noi ci rivediamo e noi ci rivediamo